Più che lavorato sull'intensità abbiamo lavorato proprio su alcuni concetti che probabilmente non erano ancora molto chiari. Non vogliamo trovarci a avere una squadra per il campionato e una squadra per l'Eurolega, insomma questo è stato il concetto su quale l'abbiamo lavorato per cui l'intensità nervosa che mettiamo in Eurolega deve essere la stessa che mettiamo anche in campionato. Certo è che domani la partita, forse, chiedo proprio questo giudizio, dovrebbe essere una partita in cui se dai il 100% magari può non bastare, forse dare qualcosa in più, no? No, no, hai detto benissimo. Già in Eurolega non puoi permetterti di giocare sotto al 100%, contro certi squadroni ovviamente devi cercare di fare qualcosa in più se vuoi portarla a casa, insomma. Quindi non è solo un discorso di tecnica, poi di cuore, di quello che ho avuto, però è tutto l'insieme di cose, bisogna essere carica dal punto di vista nervoso, dal punto di vista fisico, emotivo e quindi mi piace molto questa sfida perché così sentirò un po' il polso della squadra e sono convinto che risponda bene, insomma. Sì, tu hai domenica sgombrato il campo da alibi, di condizione fisica, insomma hai detto questo è il basket, questo è il family, quindi ecco fisicamente il dato com'è? No, fisicamente a parte un problema oggettivo di Betta Moro che è questo, insomma, un problemino al ginocchio che la condiziona, tolti il fatto che sicuramente fare più che le partite, che la gente probabilmente ci pensa poco, ma più che le partite sono i viaggi che ti stroncano, quindi fare 12-13 ore di viaggi tra pullman, air, eccetera, alla fine le giocatrici sono un po' come dei violini, sono da essere registrate bene, per cui qualcuna può avere un acciacco alla schiena o muscolare, il giorno dopo si lavora ancora, poi si lavora ancora, poi si lavora ancora, per cui il piccolo acciacco può essere qualcosa di più, quindi ci deve essere grande feeling, grande sensibilità anche con lo staff medico perché il dottor Rapalli, il dottor Sambo, Lucchini, insomma, devono sicuramente essere molto partecipi e essere diciamo insimbiosi con la squadra perché il loro ruolo è parimenti importanti di quelli di una giocatrice, di quelli di un allenatore, insomma. Senti, di Valencia, insomma, tu hai detto, ma si è detto, è un dato anche questo oggettivo, una squadra molto forte, corazzata, sono stati fatti investimenti massicci, cosa c'è da temere? C'è un aspetto in particolare da temere? Qualche giocatrice, qualche nome che in qualche modo... Sinceramente, io penso che dopo tanti anni di Eurolega ad alto livello, dove loro hanno frequentato sempre le Final Four, ci sono sempre andati vicinissimi, penso che l'unica cosa da temere sia un po' così il carisma, la notorietà di una squadra in una società ricchissima che quindi può avere un peso anche nell'ambito di certe cose, fischiati incerte, quindi può esserci anche questa situazione perché il blasone comunque non è che lo compri al supermercato, quindi loro sono veramente 8-10 anni che sono altissimo livello, investono tantissimo, fanno sempre delle squadre super e quest'anno sicuramente non hanno fatto da meno, più che pensare a chi affronti, secondo me è importante sempre cercare di essere concentrati sulle cose che devi fare al meglio, poi quando una squadra è forte, affronta una squadra che sulla carta è ancora più forte, secondo me i giocatici che sono comunque giocatici di karate e di spessore orgogliose, se sono vere ne prendono spunte e fanno leva per avere una prestazione ancora più elevata. Domani sono previsti arrivi non solo da schio per quanto riguarda il pubblico, è una partita assolutamente di cartello, questa potrebbe rientrare in quel plus che dicevamo prima, superiore al 100%, magari una piccola parte, piccolissima, però perché no? Ma guarda, penso che il surplus sia avere il palazzetto pieno, questo sì, avere il palazzetto pieno vuol dire che comunque la gente ha capito l'importanza di questo match, ha capito che comunque noi possiamo avere bisogno del pubblico per strappare questo 110% e io spero e mi auguro che il palazzetto sia pieno, poi se riusciremo a trovare la spinta da un palazzetto pieno allora sarà forse la volta buona che facciamo veramente una prestazione super.